Il cammino e il cimino è presto Chi si sta andando? Guarda Questi sono cinesi Un rievo no? Prego prego Ripassati i prezzi Ripassati i prezzi Ora le vote non si fanno Grue Ripassati i prezzi Il regio E yo aspetto a Svon Inche il regio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.